Buongiorno, nel considerare la preghiera che Dio o Gesù ci ha detto di pregare, inizia al versetto 9 con Padre Nostro. Ora, questa parola Padre è incredibile quante volte lo troviamo proprio in questo passo. Per esempio, il versetto 6 dice Rivolgi la preghiera al Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ne darà la ricompensa. Poi al versetto 8, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. E poi inizia appunto con Padre Nostro. Che cosa ci dice questo fatto del continuo uso del Padre? Padre tuo, Padre vostro, Padre nostro. Credo come prima cosa, e la cosa più bella, è che Dio ama essere chiamato Padre. Penso che Dio gioisca quando sente i Suoi figlioli dire Padre o Papà o Abba o qualcosa che indichi un rapporto di fiducia, di amore tra il figlio e tra il Padre. Come seconda cosa, Giovanni dice in sua prima lettera vedete di quanto amore è stato grande il Padre dandoci da essere chiamati figli di Dio. E la seconda cosa è che lui ama avere figli ed è straordinario che lui ci veda come figli, che lui ci veda come suoi, come sua famiglia. E questo tutto anticipa la venuta di Gesù quando saremo una famiglia, quando saremo veramente fratelli e quando saremo veramente sorelle. Poi il Padre tuo. Padre tuo sta a indicare personalità, individualità. In altre parole, non è solo Padre nostro, ma è Padre tuo, mio, di ciascuno di noi individualmente. E questo sta a significare una cura personale, pratica, amorevole verso ciascuno di noi. Poi è il Padre vostro. Che bello che Gesù debba dire il Padre vostro. Perché non c'è anche Padre tu, Gesù? Certo, ma è Padre vostro. Con voi ha un rapporto speciale. Con voi ha un rapporto bellissimo. Con voi ha un rapporto di benedizione. E te? Io ho un'altra strada, dice il Signore. E infine Padre nostro. E qua sta a indicare il rapporto del Padre con i figli e dei figli con i fratelli. Padre nostro. Implica che se noi vogliamo avvicinarci a Dio dobbiamo avere buoni rapporti con i fratelli e con le sorelle. Tra le chiese. Tra le denominazioni. Tra i cristiani. Perché tutti invochiamo il Padre tuo. Sappiamo le benedizioni del Padre vostro. Ma Gesù dice Padre nostro. Ossia io riconosco che il Padre è Dio mio ma anche del mio fratello. Anche della mia sorella. Anche di quelli che non mi piacciono tanto. Anche quelli che sono antipatici. Perché dove due o tre sono radunati di questi fratelli e queste sorelle. Là c'è Dio. Il Padre nostro. Quindi quest'oggi quando tu preghi il tuo Padre ricordati che tu hai benedizioni individuali. Che tu hai benedizioni per tutta la chiesa per tutto il tuo gruppo per tutta la tua famiglia. Ma anche il Padre riconosce o vuole che tu riconosca che è il Padre nostro. E non fare come il Padre del figlio al prodigo che ebbe un fratello contro l'altro. Uno che non entrava perché l'altro era tornato e c'era una festa in suo onore. Non fare così perché ha dolori il Padre. Perché se Dio ama essere Padre si prende tutti i rischi di essere Padre e anche tutti i dolori di essere Padre e anche tutte le gioie. Come buoni figli noi vogliamo renderlo gioioso e lo benediciamo e lo ringraziamo. Amen.